Istruzioni per pulire lo schermo del computer Ok Ok Teniamo via sta roba di mezzo che sono veneni Nessuno per pulire Sì Bisogna Sì 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 Ho trovato qualcosa? gambodiprezzemolo.org Ho già provato Non funziona Semidifinocchietto.com Blando È solo aria o mi nascondi qualcosa? Spira! Spira! Esi! Luevo! Spingi! Spingiii! Spingiii! No! Non mi vai a che fare Niente a me Senti ma come siamo? Siamo morti Morti? Non ho sentito niente Mi sento benissimo Vedi che siamo senza i nostri corti Di puro spirito Di aria Senti ma se siamo morti non possiamo più tornare indietro Possiamo reincarnarci Reincarnarci che figata come? Pensiamoci Ma dai Oh ma cosa stavi pensando quando ti sei reincarnato? Ma veramente io pensavo a qualcuno che poteva vivere su una spiaggia brasiliana Eh Io invece stavo pensando che ero gonfio Gonfio e stanco Gonfio Aaaaaaaaa Noi A A A A